per capirci. Allora, un flash, lei era preziosi, diceva Elisabetta Cardini, un tono non bello quello di Sala, sessista nei confronti di Lucia Borgonzoni. Allora, si è parlato della maglietta, voglio dire, si è parlato delle felpe di Salvini, si parla della maglietta, non è che si parla della maglietta in quanto donna, ma in quanto bibbiano, però una cosa volevo dire con simpatia ma fermezza alla signora Cardini, lei prima ha detto se io fossi una donna di sinistra direi sessista, allora questo è un problema tutto italiano, lei è da donna di destra? No, 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 aspetti, no, 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 no ha capito male, no, 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 c'è una registrazione, no, 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 ho detto se la Borgonzoni fosse stata di sinistra l'avrebbero definito sessista, guardi, secondo me il principio mondiale che Come succede? Mi scusi anche con la Meloni, con Giorgia Meloni è uguale. Ascolti, ascolti, apposta. Allora, io accolgo il principio mondiale, universale, che prima o poi l'amore arriva. Quando la Boldrini veniva sbeffeggiata da Salvini, che portava su un palco una bambola di gomma, ci sono stati gonfiabili, allusione sessista, diciamo, piuttosto evidente, auto-evidente. Diciamo che proprio non è che c'è stato lo scatenamento di quella parte politica contro Salvini. Allora, facciamo così. Facciamo che queste cose valgono sempre. Io penso che la maglietta di Bibiano non sia un'accusa sessista, ma se lei la percepisce come tale, per carità, la maglietta di Bibiano è un gesto politico che Bergonzoni ha fatto. Non sa che parte era girata, non sa che parte era girata. Ma ricordava che questa che si è candidata a Presidente della Regione Emilia Romagna non sa neanche con quali Regioni confina. Ma ricordava quello. Ma ci va riferimento a quello. Sala l'ha spiegato. Diciamo che questa cosa vale per tutti e quindi le allusioni, gli attacchi sessisti che sono venuti pesantemente da un tipo di, diciamo, modo molto ruvido di trattare la politica facciamo che non esistono. Non esistono per Meloni, non esistono per Gardini, non esistono per Boldrini e non esistono in generale.